Benvenuti a tutti i concorrenti alla Mille Miglia 2017, un anniversario importante per questa manifestazione storica in cui il comitato organizzatore ha profuso molte energie per offrire una gara interessante, innovativa che sicuramente piacerà a tutti i concorrenti. Il mio nome è Lucio De Mori, sono il direttore di gara di Mille Miglia storica e dei Tribut abbinati alla Mille Miglia. Veniamo alla manifestazione che aprirà il giorno 16 maggio con le verifiche presso la fiera di Brescia, verifiche che proseguiranno mercoledì 17 e giovedì 18 mattina. Nella serata di mercoledì 17 e nella mattinata di giovedì 18 ci sarà anche la punzonatura delle vetture Mille Miglia in piazza della Vittoria a Brescia. La gara è divisa in quattro tappe. Una curiosità per quanto riguarda la gara Mille Miglia storica sono esattamente tre giorni, 72 ore, dalla partenza di giovedì 18 all'arrivo di domenica 21. Da tappa 1 di giovedì 18 le partenze sono previste per i Tribut da Desenzano dalle 13.45, per la Mille Miglia a Brescia dalle 14.30. Ci sarà poi un controllo orario a Montecchio Maggiore. Gli arrivi sono previsti per i Tribut a Ferrara a partire dalle 21.45 e a Padova per la Mille Miglia sempre dalle 21.45. Come attività nella giornata sono previste prove cronometrate a Colombare di Sirmione, a Moscatello, a Verona, a Sovizzo, a Castelfranco Veneto e a Borgo Ricco. La tappa 2 è venerdì 19. Partenze per Mille Miglia da Padova alle 6.30 per i Tribut da Ferrara a partire dalle 7.45. Controlli orari nella mattinata a Ferrara e a Ravenna. Sosta pranzo per quanto riguarda il Tribut a Urbino a finire dalle ore 12.40. per Mille Miglia a San Marino. Il primo concorrente ripartirà alle 13.30. A seguire nel pomeriggio controlli orari a Gubbio e a Terni. Arrivi a Roma, Tribut alle 20 e Mille Miglia dalle 21.30 a Villa Borghese. Attività della giornata di venerdì 19. Prove cronometrate concatenate a Este solo per Mille Miglia, Fiume Po solo per Mille Miglia, Ferrara, Gambettola, San Marino, Passo del Furlo e Todi per tutti. Prove di media per tutti a Montefeltro, Madonna della Cima e Colpa Lombo. Terza giornata, terza tappa, sabato 20. Partenze da Roma Hotel Marriott per i Tribut dalle 5.30. Mille Miglia da Roma Seraton Parco dei Medici dalle 7.00. Controlli orari a Ronciglione e a Siena, solo Tribut. Soste pranzo, Mille Miglia a Monteriggioni con la ripartenza del primo concorrente alle 14.00 e per quanto riguarda i Tribut da Montecatini alle 14.40. Controlli orari nel pomeriggio a Montecatini e Pavullo nel Frignano. Arrivi a Parma, Tribut dalle 19.50, Mille Miglia dalle 21.20. Le attività della giornata sono prove cronometrate a Lago di Vico, Val d'Orcia, San Quirico d'Orcia, Pistoia e Torre Maina. Prove di media a Montecimino, Radicofani, Contignano e a Betone. Tappa 4, domenica 21. Partenze da Parma, Tribut dalle 6.00 e Mille Miglia dalle 7.30. Controllo orario a Mantova. Soste pranzo per tutti a Rovato, Tribut riparte alle 12.20, Mille Miglia alle 13.55. Arrivi a Brescia, Viale Venezia, Tribut dalle 12.55, Mille Miglia dalle 14.30. Attività della giornata, prove cronometrate a Busseto, Strada dei Ciliegi, Parco dell'Olio, solo Mille Miglia, Cannetto sull'Olio, Aeroporto di Ghiedi, Pista del Tornado. Una breve spiegazione delle principali attività previste. Mille Miglia è diviso in tappe, come già detto, e in controlli orari. I controlli orari servono a mantenere il ritmo alla gara e a far sì che ci sia ordine nello svolgimento. Quando un concorrente transita in anticipo o in ritardo a un controllo orario, se è transitato in anticipo al successivo dovrà cercare di passare nel tempo imposto del settore. Per quanto riguarda invece i ritardi, i ritardi non vanno mai recuperati perché altrimenti si supera il tempo per recuperare il ritardo e recuperare la posizione. Si va in anticipo e le penalità per anticipo sono comunque molto pesanti. Quindi i ritardi non vanno recuperati. Poi per quanto riguarda le prove cronometrate, la gara Mille Miglia ha 112 prove cronometrate per Mille Miglia e 91 prove cronometrate per i Tribut. Le prove cronometrate sono tutte concatenate, vale a dire che le serie di prove previste sono concatenate tra di loro. La partenza è libera, quindi il concorrente è libero di partire. Poi deve rispettare i tempi imposti fino alla fine di quella serie considerata di prove concatenate. Novità di Mille Miglia 2017 e di grande interesse di Mille Miglia 2017 sono le prove cittadine. Sono ben sette serie di prove concatenate cittadine allestite in modo particolare che daranno la possibilità agli spettatori di godere dello spettacolo delle vostre automobili e a voi comunque di essere circondati dall'attenzione di spettatori che finalmente potranno comprendere cosa state facendo. Tutte le prove concatenate sono regolate da tempi imposti, indicati nella tabella delle distanze di tempi e indicate nella tabella di marcia. Dicevo che le partenze delle prove concatenate sono libere, però questo non vuol dire che ognuno può partire per la prova concatenata, per una serie di prove concatenate quando vuole. Le partenze della gara sono previste, la gara prevede le partenze di tre vetture al minuto, non ogni 20 secondi ma di tre vetture al minuto. Vuol dire che se da Brescia al minuto 15 dell'ora 15 sono partite tre vetture e il tempo imposto per transitare al CO successivo è di un'ora, le tre vetture dovranno transitare nel minuto 15 dell'ora 16, non c'è bisogno di dire che uno deve transitare a 0, a 20 e a 40. Le tre vetture idealmente dovranno transitare nello stesso minuto. E' molto importante quello che sto dicendo perché se non viene rispettato l'ordine, salvo cause di forza maggiore, il convoglio tende ad allungarsi e i concorrenti che seguono hanno delle difficoltà a raggiungere i controlli orari successivi e quindi saranno penalizzati magari non per loro colpa e quindi nessuno ha il diritto alle partenze delle prove cronometrate e anche delle prove di media di prendere dei ritardi, di prendere degli spazi. La gara è prevista per tre vetture al minuto e tre vetture al minuto dovranno rimanere alla partenza di ogni prova. La gara comprende anche sette prove di media per tutti, sia per i Tribut che per la Mille Miglia. Nelle prove di media le letture, i concorrenti dovranno mantenere la media ideale assegnata e indicata in tabella di marcia e in tabella di distanza e tempi. Le medie sono variabili a seconda delle difficoltà della prova, di ogni singola prova. Le medie vanno rispettate, noi non effettueremo nessun rilevamento nel primo chilometro e mezzo di ogni singola prova di media ma voi i concorrenti dovrete essere in grado di portarvi in media e di mantenere la media imposta a partire prima possibile sapendo che comunque nel primo chilometro non sarà effettuato nessun rilevamento. Anche nelle prove di media vale la regola che nelle partenze nessuno si deve prendere del tempo idealmente siccome siete partiti a tre al minuto dovreste partire anche per le prove di media così come per le prove cronometrate concatenate le tre vetture nel minuto. Lungo il percorso troverete poi dei controlli a timbro che servono per verificare che siete effettivamente transitati nelle località previste e che avete rispettato l'itinerario. Questo ci viene rilevato anche dal sistema trekking, voi riceverete alle verifiche ante gara una parecchiatura trekking che registrerà il vostro percorso, l'apparecchiatura trekking trasmetterà alla direzione gara tutte le informazioni per cui avremo la possibilità di verificare dove siete, il percorso verrà comunque registrato e quindi anche i transiti ai controlli a timbro saranno ritenuti e saranno controllati per l'assegnazione di eventuali penalità. La gara è regolata anche, tutti i controlli sono regolati anche da un tempo massimo tempo massimo che è di ritardo, che è di 15 minuti per il primo controllo orario di ogni giornata che poi diventano 60 minuti nel corso della tappa. Il regolamento recita che voi avrete diritto a partire nei 15 minuti successivi alla vostra ora ideale a sapere anche che i controlli orari avranno degli orari di apertura che vi saranno comunicati alle verifiche ante gara con una circolare informativa emessa dal comitato organizzatore che vi comunica gli orari di apertura e di chiusura di tutti i controlli lungo il percorso. I controlli saranno presidiati da personale, da commissari di percorso che verificheranno il vostro transito. Assieme a voi nel convoglio dei Tribut che precedono la Mille Miglia e di Mille Miglia ci saranno delle vetture con diverse funzioni. L'organizzazione ha posto in essere un proprio convoglio costituito da sette vetture a pripista 3 davanti ai Tribut e 4 davanti a Mille Miglia da 5 più 9 quindi 14 pace car che hanno il compito di regolare l'andatura in base a una ideale tabella di marcia. Poi ci saranno 9 vetture Technical Car, 2 dedicate ai Tribut e 7 dedicate alle vetture Mille Miglia per l'assistenza tecnica, 8 vetture Medical Car, 2 dedicate ai Tribut e 6 dedicate a Mille Miglia. Ci saranno poi per regolare il funzionamento e il procedere del convoglio 7 vetture della Polizia Stradale, 2 per i Tribut davanti e 5 per Mille Miglia da 34 motociclisti della Polizia Stradale, 9 per i Tribut e 25 per Mille Miglia da 3 motociclisti della Polizia Municipale di Brescia. Quando partirete avrete davanti a voi delle vetture pace car, technical car, medical car o dei mezzi della Polizia non dovrete mai superare le vetture di riferimento, potrete farlo nel caso in cui vi dobbiate fermare per un problema tecnico, per un'esigenza vostra tecnica ma saremo veramente molto rigidi nel controllo delle velocità e degli eccessi di velocità. Mille Miglia ha bisogno della collaborazione di tutti i partecipanti è la corsa più bella del mondo e deve restare tale. Tutte le vetture che sono nel convoglio hanno la funzione di controllare il procedere delle vetture da gara, non devono mai essere superate le vetture di riferimento nel caso di pan meccanica dovete chiedere l'assistenza o via trekking oppure personalmente al personale delle vetture e in quel caso il personale delle vetture irradierà attraverso un'applicazione dedicata all'informazione della vostra richiesta a tutto il convoglio quindi non serve che voi andiate a reiterare le richieste di assistenza perché la vostra richiesta di assistenza in tutti i casi è stata registrata e appena possibile sarete raggiunti da una vettura di assistenza. Questo nel caso di pan meccanica, nel caso di incidente si attiverà una procedura di intervento che è la più veloce possibile. Lungo il percorso sarete controllati da commissari di percorso che sovraintenderanno, incaricati di sovraintendere alle operazioni di controllo lungo le prove cronometrate assieme ai cronometristi incaricati di rilevare i tempi e da un consistente numero di giudici di fatto che verificheranno il vostro comportamento. Quando arriverete alle soste pranzo e ai fini tappa, nel caso di problemi o di particolari esigenze vi dovrete rivolgere a dei commissari particolarmente esperti che sono gli addetti alle relazioni con i concorrenti che trattano argomentazioni di tipo sportivo e che vi daranno una prima risposta se possibile ai vostri quesiti oppure inoltreranno alla direzione gara qualsiasi vostra richiesta. Nel caso voi dobbiate lamentare qualche mancanza nelle classifiche o qualche problema nelle classifiche, sappiate che le classifiche compilate ogni giornata vengono chiuse e quindi voi avrete diritto di protestare contro le classifiche entro la vostra ora di partenza della tappa successiva. Quindi gli addetti alle relazioni concorrenti che trovate all'arrivo li troverete anche alla partenza della tappa successiva. Per quanto riguarda le vostre assistenze e il vostro personale che vi segue voi siete strettamente responsabili del loro comportamento loro sono registrati e di conseguenza devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni non devono mai transitare nelle prove cronometrate, nelle prove di media laddove il roadbook prevede la deviazione devono attenersi alle disposizioni ricevute. Un'ultima nota tecnica, nel caso di prove cronometrate notturne le linee di cronometraggio, i presostati saranno illuminati. Credo di avervi illustrato sufficientemente questa millemiglia 2017 prendete visione dei documenti di gara che vi forniremo, che vi saranno forniti che sono pubblicati sul sito del regolamento di gara, del roadbook delle circolari informative che modificheranno le condizioni del regolamento o quanto contenuto nel regolamento all'ultimo momento per ragioni di organizzazione o per cause di forza maggiore e siate attenti a qualsiasi comunicazione scritta che vi verrà data nel corso dello svolgimento. Attenetevi alle norme di comportamento e di rispetto del codice della strada e aiutateci a far svolgere il millemiglia 2017 nel miglior modo possibile in modo che tutti voi possiate considerarvi dei vincitori di questa millemiglia. Grazie e buona strada.